Questo invece è il gol del vantaggio del Pisa, è segnato da Crisci Manni con un tiro da fuori area. L'Udinese pareggia 4 minuti dopo al 32esimo il fallo di Vianello su Mauro, il Casarin concede il calcio di rigore, lo trasforma Edinho. E quindi il gol del vantaggio dell'Udinese, testa di Virdis e Palometto Maligno di Causo, vedete 2 a 1 che restituiscono la linea. Avellino Verona 1 a 0, Palermo Camponeutro Catania Latte.